America, Argentina, questa è una serata dal respiro internazionale, anche perché l'artista che stiamo per introdurre adesso è un'artista conosciuta in tutto il mondo, il mondo l'ha apprezzata con una canzone che ha scalato le classifiche nel giro di pochissimo tempo, Snow on this era, e poi l'Italia l'ha apprezzata in maniera particolare perché ha partecipato ad una canzone con Piero Pelù, però la musica non è solamente del suo interesse, c'è anche in primo piano la battaglia sociale, l'impegno quotidiano sulle battaglie importanti per quanto riguarda il mondo, come quello della fame, come l'impegno delle Nazioni Unite, perché lei è ambasciatrice della FAO e delle Nazioni Unite e si è esibita anche in Vaticano alla presenza di Giovanni Paolo II, è con immenso piacere che questa sera vi presento Hangun! e tra l'altro verrà accompagnata al piano da Christian Kreshmar, che è area di famiglia, potete immaginare. Hangun, è un grande piacere di averlo, sono orgoglioso di averlo. Quindi, è una grande responsabilità di essere ambasciatrice della FAO e delle Nazioni Unite. Un grande piacere di averlo. È una responsabilità, ma è in realtà, in realtà, in realtà, bisogna dire un buon esempio. Ciò che pregiate è ciò che fai. Praticamente, bisogna essere, ad esempio, devi essere coerente con quello che fai e con quello che dici. Quindi, noi stiamo ascoltando... Sì, sì, e noi stiamo spiegando alcuni canali, e per questo ho bisogno di un pianista, e il pianista appena è il mio marito. Oh, una famiglia di affaire. È sempre bello avere una famiglia di affaire. Sì, Christian Kreshmar, certo? Sì, perfetto! Sì, è ora per la musica! Hangun! È molto bello. Sì, Christian Kreshmar, certo? Sì, Christian Kreshmar, certo? Sì, Swisspo. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti